Cari amici ben ritrovati, aria umida continua ad interessare il nord colpendo particolarmente la Liguria ed il settore alpino occidentale. Domani la coda di un fronte interesserà il settentrione con annuolamenti più compatti su Alpi e Prealpi e qualche possibile rovescio. Mentre da giovedì e fino a domenica assisteremo ad un importante rinforzo dell'anticiclone africano che coinvolgerà da nord a sud tutta l'Italia con tempo sempre più stabile e caldo. Tanto che nel fine settimana assaporeremo un caldo estivo particolarmente su Sardegna, Sicilia, Puglia, Molise, Basilicata, Lazio e Toscana con punte di 31 gradi. Ma vediamo cosa aspettarci per la giornata odierna. Al nord parziali annuolamenti su Ovest, Alpi e Liguria. Per il resto bel tempo, bello anche sulle altre regioni con temperature molto midi. Sulla nostra provincia, giornata all'insegna del bel tempo, le temperature si porteranno ai 23 gradi nei valori massimi previsti alle ore 16 e minimi alle ore 4 del mattino di circa 13 gradi. Venti deboli soffieranno da Ovest e da Sud Ovest nella sera con il mare nello stretto di Messina poco mosso. L'intensità solare più alta si è registrata alle ore 14 con un valore UV di 7,9. Sul versante tirenico soleggiamento diffuso, le temperature si porteranno ai 25 gradi diurni e 12 nella notte e i venti deboli soffieranno da Nord e da Sud nella notte con il mare tirreno calmo. Sul versante ionico giornata serena e soleggiata, le temperature si porteranno ai 25 gradi le massime e minime di 11 e i venti deboli soffieranno da Sud Sud Est e da Ovest Nord Ovest in serata con il mare nello poco mosso. Nella giornata di mercoledì 13 aprile nuvolosità al nord con possibili rovesci su Alpi e Prealpi con qualche temporale dal pomeriggio, transito di nubi al centro ma senza fenomeni, sereno e mite al Sud. Sulla nostra provincia giornata serena o poco nuvolosa, con temperature massime di 26 gradi alle ore 15 e minime di 20 alle ore 4. Venti moderati soffieranno da Sud ed i mari saranno poco mosso sia il Tirreno che lo Ionio. L'intensità solare più alta si registrerà alle ore 13 con un valore UV di 8,7. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.